Un'anteprima di successo, una festa in musica nei luoghi del grande Paesiello. La città vecchia di Taranto ha vissuto una serata di concerti, performance di danza e reading letterari con oltre 20 artisti per l'anticipazione settembrina del Giovanni Paesiello Festival organizzata dagli amici della musica Arcangelo Speranza e dal comune di Taranto con la direzione artistica di Lorenzo Mattei. Una notte paesielliana con recital strumentali e vocali, racconti e interventi coreografici dislocati tra il salone degli specchi di Palazzo di Città e le varie postazioni di spettacolo alle site lungo via Duomo, con tappe alle colonne d'oriche, al conservatorio Paesiello, al caffè letterario in piazzetta Monti Oliveto, nella chiesa armena di Sant'Andrea davanti a casa Paesiello e infine in piazza Duomo. Grande affluenza di pubblico è fatto da preludio alla 21esima edizione del Giovanni Paesiello Festival in calendario dall'1 al 29 ottobre con una serie di appuntamenti di grande prestigio e la rappresentazione di un'opera buffa in prima esecuzione in tempi moderni della quale verranno presto rivelati i contenuti. Il programma della Notte Paesiegliana ha preso le vie nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città con un concerto del violinista Carmine Fanigliulo e della pianista Francesco Colonna ed è proseguito al conservatorio Paesiello con i resital del virtuoso DARPA Fabrizio Aiello accompagnato alla pianoforte da Pier Alessio Caroli.